Ciao a tutti che sono tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Shallow Corms Con questa nebbiolina E questo primo piano Primo, primo, primo Primo piano E andiamo fammi un primo piano Ehi, what the fuck Ehi Gira, no, girati No, girati, no, che ca- oh Vabbè, primo piano suo Ma neanche Ah, eccolo qui Un bel primo piano Questo è il primo piano, che nasone Porcaccia, ok Allora, ehm Dobbiamo portargli la penna Tu easy Tu easy Come si sale? Dobbiamo parlare con lui Warden McKenzie A tuo servizio, Sir Eh, ci faccio salire Ci, dobbiamo, aspetta forse, devo prendere la chiave Nope Ehm Ecco Vai, sali, 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 sali Ok Corri, 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 corri Oh, 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 oh C'era qualcosa da guardare? Tante cose da guardare Una carabina Una carabina Una carabina Posso guardarla? No Ok Corri, corri, piccolo, fa per Oh, chi è di qua? Ah Troppo comuni per me Sono Sherlock Holmes Birdrake Oh, la musichetta Gni, 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 gni Giiiiiiiira Giiiiiiira Ok Mi sa che dobbiamo parlare Con Qualcuno Si, si, si Dobbiamo parlare con il direttore Per accedere alla Alla Tu sai cosa? Oddio, sembra un cane Ehm Le dispiace? Ma sta ancora dormendo? Ah no, sta lavorando ora, per fortuna Ok Ok, parla Of course Mr. Holmes Armi Nel Musiamo Toca Esa Questa Vergio Cosa Che Cosa Cosa è? Una bomba? Ok Capisco Chiavi Buono, grazie signor Paterson Mh mh Mamma mia, tua figlia tattara un po' di non lo so Con la frustata Oddio, si piange Mh, secondo me si Ehm 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 La, la, la signorina, la figlia Oh, Watson No, eh Si, ho capito Ehm E gira Eh, meglio un ortacci, dammi la chiave Ecco Ok Un momento, qual'è il suo? Ah, quello, ok Ehm Ehm Un rato Ehm Dia che quella è la penna Oh, che c'ho Oh, elementi chimici No, scazzavo Carta assorbente Tagliacarte Mi sa che è qua dentro la roba this solid box oh shit nike 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 ok posalo carta assorbente ok e il bigliettino hey as soon as the catastrophe come to be known the alarm from mouth to mouth was blown and che cacchio and cry fans out che cazzo c'è scritto ah mi sa che queste cose evidenziate sono le cose che dobbiamo fare tipo allora vediamo cos'è che evidenziato ci sono una a una una p ok una una e una p è un segno si ok ph a non capisco quale sono davvero evidenziati queste sono delle di giusto allora è una la p alla alla pala pala no pala blb Non capisco quale sono davvero evidenziati, c'è una virgola Pala, virgola Al Virgola No, non capisco Ala Al Cos'era Pala D Pala Pala No Pala C'è una D Si, sono comunque tutti elementi chimici, eh Però non vedo una D Dovrebbe esistere una D No, no, scherzavo Ok Allora, ci sono tutti elementi chimici, allora P Al potrebbe stare per alluminio Ma l'alluminio non si Si L'alluminio non si indica così, l'alluminio è tipo Ah, c'è un Ptlr Ci sarà un Ptlr da qualche parte, no? Pt, pt, pt Allora, il primo è P E quindi P dovrebbe essere fosforo, no? Dovrebbe Spero Spero P D Al Al Alable Possibile All'avaffangala Allable Al 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 Bl Che cosa? Ma sì, non sono cieco, riesco a leggere, il problema è Ma è bisogno di trovare qualcosa Che è interessante E se invece Ci sono dei buchi Dei buchi Ho capito Brs Brs C'è un brs da qualche parte Br Brs Quello, no? Ah, c'è un altro puntino Scherzavo, scherzavo Ah, ci sono altri puntini Qua Ok, hbrs Che dovrebbe essere un qualche tipo di acido No, no, no Hbrs Eh, andiamo Possibile essere nell'ordine Brhs Brs H Andiamo Hsbr Hsbr Hs è un tipo di ruolo Che cazzo sto dicendo Hs H S B C'è un r, no? Non mi pare Br Ma non c'è un qualche tasto da premere Quindi Scusa, eh Ci sono altri punti Ah, ah, ah No Ah, eccolo No It is Nican Ok, c'è anche un Nican Un C C'è un C A E' un C A quello Sì, è un C C'è un C C A H S Br Alleluia Non lo so Infatti Ok E' lì mortacci Finalmente sono riuscito a capire una cosa Qua ci dovrebbe essere anche l'armadietto della signorina però Io volevo aiutare la signorina Quanto pare non dobbiamo aiutarla Ok Come corre in motosac Cosa? Uh 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 Ho appena portato il mio uniforme cerimoniale, nel medio del mio obiettivo, e ho detto a lui un mille volte non lo portare fino a 6 in la mattina. Un uniforme cerimoniale? Hai stato promocato? Non, e non è che succederebbe. Non, ho stato invitato a una festa. Cioè, spero di essere... sono in problema. Se il giro che vedo che ho lasciato la mia posta, sarò sancato senza pagare. Dessere a me, Warden Brighton, e farò cuore di te. Ah, voglio aiutare la signorina. Bravo bambino. Ok. Ok, col tiro interno, questo? Ma non lo chiedere a lui? Ehm... Ah, non è questo. Allora sarà quello. È quello, è quello, è quello, è quello, è quello. Corri! Bravo bambino. Allora... Ah, questa è della signorina. No, è di Brighton, giustamente, perché è nell'angolino. Eh, usalo! Eh, usa la... La... Questa. Ok, ora mettiti dentro la roba. Eh, è... L'uniforme. Ah... Indubbiamente. Hai capito, è questo grandissimo pezzo di merda. Ok. Sesto senso finito. Possiamo mutare la signorina? Mmh, vai... Oh... Che cos'è sta roba? Penso... Di avere in qualche modo... Capito che cosa fare? Forse... No, questo non può andare qua. Sarebbe una cosa di questo... Devo fare in modo... Mmh... No... Ecco! OP! Cosa c'è là dentro? Ma chi se ne frega di sta roba? Ma chi se ne frega di sta roba? Ah... Ah, vuole sposare la tizia. Foglio dei servizi. Ehm... Guardiamo, non so, l'accoglianza... Ok. E' questa? Mia cara Jenny, sposiamoci. Non pensare alle conseguenze. Spero di aver accettato il fatto che siamo innamorati. Pensa al bambi... Ehm... The fuck? Ehm... Ok. In quelle vette porte... Mi devo trovare sposate... Temerò fino alla morte. I grandi femmini di Genesimi mi hanno ispirato. Fatti coraggio... Ma... Proprio... Grandissimo, eh. Ok. Possiamo andare. Andiamo a creare il casino! A presto! Nooo... No problem... TUNZE TUNZE DAGLE DAGLE TUNZE TAGLE DAGLE PUMPUM PARM PUM 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 THIS IS A WAY ROOUND MOTHERFUCKING BRU- ok eh, dovremmo andare qui. va bene diamone le guardie... cos'è la... non è questo... aspetta dove è? no, ce l'ho in inventario? lascio passare qui in al... No, non ce l'ho Scusate, signor Romance, non puoi andare in una basura per il momento. Per ogni motivo. La porta è fermata automaticamente. Deve essere usato un codice di sicurezza. Faccio, allora. Miss Patterson non ha messo il listo di guardia. Con questa informazione, non sappiamo chi è autorizzato a prendere il codice di nuovo. Quindi, McKenzie è fermata in una zona di sicurezza. Sì, ma non preoccuparti con lui. Si è preparato per questo tipo di disfunzione. Perché non chiedere il direttore a prendere il codice di sicurezza e a aprire la porta? Non è permesso. Ma... Ma... Beh, ce l'ho. Ma così, in un microsecondo. Bene, grazie, signor Romance. Vediamo. Ma sono in tre, chissà chi è mai toccava. E se è uno primo attacco di Alzheimer, lì? Vabbè. No. Non usare la penna di... Non usare la sua penna. Laura t'ammazza. Nemmeno me lo sento. Non usare la penna. Non usare la penna. Non usare la penna. Oggi non usare la penna di scoperta. Ma che cosa? Lei del S. Sherlock Holmes. Si! Ma che mi fa entrare. Ma dai, ma dai... Siete abbastanza serio? Completamente serio, mio figlio. Posso usare questo scrittore? L'unico di teatro? Un mili di grazie, signor Romes! Un mili di grazie! Si è addresa per l'inspector Baines, un buon amico di mio. Non c'è bisogno di te rappresentare che deve essere abitato solo per la persona a cui si è addresa. Sì, ovviamente. Lo darò a lui personalmente. Grazie ancora, signor Romes! In realtà gli ha scritto tipo non assumere sto tizio si droga, tipo, vabbè. Ok, possiamo entrare ora? Oh, oh, oh! Scendi. Torniamo dal pazzo. Sono tedesco io! Tedesco, tolto tedesco. Tedesco molto per davvero. Mi piace e mi schilla, per davvero. WTF? Quella era il Facebook. Tenga! La sua penna. Ma che cosa vuoi che vuoi? Tu hai quello che vuoi. Tu tratta la penna. Te preziona. Tu sembra che rilassi, signor Romes. E io anche avrei così vicino che diria vero Hmm... Ma come fa se quello? E se me sto dicendo? Vabbè... Il suo uomo è incontrava grandi difficoltà in attaere dei risultati desiderati. Che è il risultato finale? Ora, mister Holmes... Il risultato finale di quali scienze... come Descartes ha detto... Per diventare il mestiere e il cliente della natura. here we are talking about human nature, of course, and the creator's problem isn't so much the mixture as the durability of his creation hmmm, nel senso che faccio un antiroto, quel senso? you see this poison was made using rare but very volatile short living compounds which means that it is only possible to produce small quantities which most importantly do not keep for a long time capisco hehehehehe no i doubt if the creator of this mixture would be capable and you would be, of course of course luckily you are going to spend the rest of your life in prison luck is cyclical it always comes around again, sooner or later as far as i am concerned, i have the feeling that the cycle is going to be very short hmmm hmmm e so io perchè, perchè la penna è alta ora con la penna che gli hai appena dato ok tanto scappa comunque, ha detto che è un genio io mi filo tunze tunze taglie taglie tra la lero, tra la la, io puffo e pure te noi puffi siamo così tunte tunte la 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 polli la 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 polli open this sheet up please dov'è? watson? che lumaca andiamo watson, brent, vieni mamma mia che lento oh 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 che sta facendo? aaaah la scoperta si tratta da la question che il tuo bambino è chiamato Patterson molto bene tu non hai scoperto di riveliare il padre a me? allora vieni e lo vieni non sto parlando io... io... io non posso io non posso mhm direttore, tu dovrai posponare questa riunione piccola famiglia noi crediamo che una scena seriosa è avanti noi possiamo agire senza delay ma che ti frega la tua prigione? ma che ti frega la tua prigione? è solo perché della sua reputazione pensi sulle le conseguenze di una scoperta si tratta di una scoperta si tratta di una scoperta e che posti immagini si tratta di una scoperta per la persona che si tratta di responsabile tu è vero no nessuno si tratta di Westgate under Patterson io mi mando una scoperta inizia a la scoperta ok ok Chief Warden James apportando la scoperta della scoperta di Hans Schillmann ha stato scoperto non sono trovati non sono trovati grazie, Chief James mi sento meglio ora senza volerci offenderci, Mr. Holmes sono felice che sei scoperto se non sei scoperto abbiamo nulla di fare qui potremmo andare, Holmes? c'è solo una cosa più per me per vedere Watson cosa? una bella figlia no Mr. Holmes sorry to interrupt you but Miss Jenny wishes to see you alone she is waiting for you in her office this, Watson how did you know? wait for me in the guard room I won't be long no no Watson seguimi what an extraordinary gentleman that Sherlock Holmes is you must have had lots of adventures with him ah insomma oh yes dozens before he was infallible but there wasn't anything out of the way in the miraculous cell could he have been mistaken? I must admit Warden Brighton in my office immediately that's an order eeeeee the director seems furious eeeeee it must be important for him to Warden Brighton to leave his post appena scoperto che sei scoperto what the fuck? did you hear that? yes that's not normal I've never heard Flint shout like that but why does no Sullivan sound the alarm? follow me Mackenzie let's go and have a look I'll come with you no doctor Watson you're not allowed in wait for me here very well ma dai vi avrei chiuso salvare la vita ora morite guarda come ve lo dico but the grill is blocked chief we've been locked in and that smoke it's coming from below ehhh oh Sullivan can you hear us? Sully are you alive? answer us Sully what's going on? can I help you? sound the alarm in the guardroom that should unblock the door be quick oh Sullivan might be in danger eh it doesn't work ehhh it doesn't work non funziona it doesn't work no eh non fu non funziona ho capito ehhh merda come faccio non ho capito il cazzo vai qui ma chi se ne frega qui dentro? o qui dentro? o qui dentro? ehhh 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 ha detto di seguire la cosa degli ospiti vabbè sarà questa ehhh 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 di qua vabbè da qualche parte ehhh 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 dove è l'allarme? ahhh ok dove devo andare? eh ho capito ma dov'è l'allarme? sciat sciat ah devo rimortarci non trovi niente interessante te scusa puoi ripetemi che cacchio devo fare? ah magari è questo ehhh 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 posso sapere questa roba? eh ho capito ma di mortacci questo è una sfigata Allora, calma Non funziona! Ho detto prendi le nostre chiavi Ah eccole Corri! Prendi anche la carabina Non puoi? No, perfetto Corri 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 Watson Watson Corri 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 Watson Watson Dove sono le chiavi? Non funziona Come non funziona? È chiaro Lancia con forza Ma è presa il volo Eugenio Ah è lui così molto calmo Ehm ok Ehm Ah ho capito No non ho capito Oh merda Cosa devo fare ho capito Ah il contatto E' di mortacci di tua mamma Ehm Allora il contatto abbiamo detto Devo andare dall'altra parte per caso Mi sa di sì Mi sa che devo uscire dall'altra parte Ehm 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 Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ok Senti sarò anche scemo ma che cosa Cosa intiene lui per contatto Devo arrivare al centro ok questo mi sembra anche abbastanza Ah perfetto perché proprio quando ci ho Non vale prima ci ho provato non ha funzionato Cioè non vale sembro scemo così In realtà io ce l'avevo provato non funzionava Ah dai volevo sparare a qualcuno io Sì ma dov'è answer Ok Cosa mi dice che manca No problem Comunque per questo episodio è tutto Ha salvato sì Sì Io vi saluto ciao Non salta però Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti